Sapete qual è la merda il giorno dopo? Lo sapete qual è? Allora, adesso ammettiamo che non me ne frego un cazzo se mi sente in tutto il palazzo Perché mi avete rotti i coglioni, perché anche il giorno dopo Allora, io vi chiedo, ma mi chiedo, ma tu un po' puttana Ma mi chiedo, ma io devo andare a scuola per mi sfruttare da questi pezzi di merda? No, ditemelo voi, allora Parto subito a dirvi perché sono incazzato Perché non ce l'ho con tutti gli interisti, per l'amore di Dio Dopo l'avrò partita, ci hanno fatto in 45 minuti 4 gol, complimenti a loro E poi chi vince ha ragione, ok Però mi riferisco a due lucchini qua su YouTube che hanno rotto il cazzo proprio, porca puttana Non faccio cognome, che sanno quelli strozi che hanno più iscritti, ma io non mi interessa Il due cazzo di Luca Qui sto parlando dei nostri colleghi, dei miei colleghi youtuber Che non riconosco neanche, non so che faccia abbiano So che faccia abbiano mano da vivo, nel senso Raga, ma come cazzo si fa? Ma voi, io dico, ma io ho sentito soltanto, raga, due video ho sentito ieri sera E già mi veniva voglia di andarvene a sputtare in faccia a pezzi di merda Ma come cazzo fate? Cioè, allora, io non posso non dire niente Che non mi piace fare disi, ho detto che non lo faccio più, ci ho provato Però quando vedo sti... Mamma mia, raga, non ce la faccio più, poi dico delle cose che non dovrei dire Allora, io dico una cosa Quando vedo sti maleducati, ecco Quando vedo sti maleducati che scrivono Che non scrivono, anzi che dicono sul loro video Che si sono meritati la partita E che l'Inter non ha giocato, ha fatto schifo Oh, che il Milan ha fatto schifo, scusatemi Che poi vedete che quando sono nervoso non ragionano manco quel cazzo che dico Scusatemi magari se sbaglio qualche parola di merda Io dico, ma quando noi abbiamo proprio... Dico, non è che mi abbiamo fatto cagare Perché 45 minuti voi non avete visto la palla Non avete visto la palla E quel che voglio dire, soprattutto È che non potete limitarvi a dire che il Milan ha giocato di merda Ok, uno, punto primo Punto secondo, arriviamo a Ibrahimović Che avete rotto il cazzo, tutti questi stronzi qua Tutti insieme Tutti insieme su questo cazzo di Youtube Avete rotto tutti su Youtube veramente Di insultare un giocatore Ma questo povero Cristo che cazzo l'ha fatto? Cioè, allora, fatemi capire Fino adesso non è venuto in Italia Ah, se c'era la trattativa con voi Questo è vero che si parlava Ibra, Inter o Milan Alla fine è venuto a Milan Ma se veniva l'Inter era un testa di cazzo di campione Era la migliore Andate a cagare, andate va E venuto al Milan uno zingaro Ma guarda, andate a cagare veramente E adesso venite anche a dire Venite anche a dire Te, libra, te Oh Ma voi rispetto ne avete imparato a casa vostra L'educazione? Mi pare che l'educazione non ce l'avete Ce l'avete sotto il buco di culo Perché Tutti si lamentano qua Forse non hanno coraggio di lamentarsi Io mi lamento Perché voglio dirvi una cosa Voi dovete imparare cazzo di rispetto Per Almeno per chi Gioca la sua partita E poi non me ne frega un cazzo Ognuno diceva il che vuole nel suo video Ho capito Però Voglio dire Mancare di rispetto Veramente Cioè allora Lo sfoto ci sta Ah ma fatelo in modo simpatico Ma non sapete manco fare video Mamma mia Guarda Veramente Non sapete fare video Un sfoto simpatico Che dice Uno si vide Mi faccio anche una risata Non perché non la prenderei Per carità di Dio Che Però Siete andati avanti 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 Per unci minuti Mamma mia Ma sapete che siete noiosi Sapete che siete Proprio noiosi Sapete che la tifoseria Come Mamma mia Sapete che una tifoseria Come voi non esiste al mondo Non lo so se vi rendete conto Chi è una tifoseria Così Maleducata Così Non posso neanche definire Così scema Così idiota Non esiste al mondo In Italia Sicuramente sono stati peggiori Ma questo Allora Non mi riferisco a tutti Mi riferisco a quel piccolo Piccolo gruppetto Di idioti Piccolo gruppetto Perché mi riferisco anche i milanisti Che anche noi abbiamo Tutti i ultras Tutti i ultras A me non mi stanno simpatici Insomma In sostanza Tutti i ultras Dipende poi chi Per non Comunque Io voglio una cosa dire Noi guardiamo l'Inghilterra Che non ha La tifoseria di ultras Allora se non c'è la tifoseria ultras Ragazzi ci sarà un motivo Innanzitutto Ci sarà un motivo Perché sono più Come posso dirvi Sono più intelligenti Rispetto a noi Noi abbiamo una massa Dei credini La gente Vabbè Che quella gente Vip Che sta bene I soldi E la gente Normale Che la veda Partita così Buon finisce lì Io Ieri Mi sono incazzato Con i miei giocatori Non ho toccato mai L'argomento Però dopo che vedo Due video Mi girano i coglioni Figa Mi girano i coglioni Mamma mia Guarda Veramente Mamma mia Guarda Veramente Non ne parlo più Che è meglio Non ne parlo più Che è meglio Siete una roba Irritante Siete uno schifo Scandaloso Mamma mia Guarda Io non lo so Veramente Lo fate soltanto Per iscritti Non ho capito Però le cate troppo Il culo Vabbè Lasciamo stare Guarda Io non c'ho iscritti Ma non è che non ne voglio avere Così tanti come voi Ho capito Cioè Non lo so Veramente Se poi sono incazzato Sapete perché sono incazzato Perché il giorno dopo Mi girano ancora dei più coglioni Perché raga Ritornando a noi Adesso Abbiamo avuto Oltretutto Abbiamo avuto Il 2 a 0 L'intervallo E ieri Adesso No ieri Anche ieri sera Sono stato vicino All'altra A pensare Ma questi qua Che cazzo Hanno fatto l'intervallo Speratevelo adesso Che cazzo Avete fatto l'intervallo Io ne voglio proprio sapere Perché all'intervallo Io non ho capito Che cazzo avete fatto Nel senso che Siete andati Negli spogliatori Con buco di culo così Siete usciti Con la merda Sotto a buco di culo Perché non capivate Dove cazzo Stava la palla Mamma mia Ma poi Ma poi io dico una cosa Ma poi Fatti fare 4 gol In 45 minuti Ma come cazzo Hai fatto Come hai fatto Fatti Così tanti gol In 45 minuti Ma che ce ne vuole Cazzo Se ce ne vuole Mamma Poi che hai pensando 45 In 2 minuti Ma peggio di Peggio di Atene Atene Quando cazzo Eravamo Minchia Peggio di Atene Questi 2 minuti Ah ero Oltretutto Ritornando Apro Proprio parentesi Ritornando A quello che ha detto Qualche Youtuber qua Io Vi rispondo io Che Alla fine A Liverpool Che ce ne ha Metteremo in secolo Una partita normale Tra 3 anni Non mi ricorderò neanche Di sto derby di merda Ok E' una partita normale Mamma mia E' una partita normale Derby non si caga nessuno Non è anche Avete visto il trofeo Avete capito o no? Chiuso a parentesi Però Io dico Io dico Ritornando da noi Adesso ancora Come avete fatto A fare Cazzo Abbiamo subito Del gol De Forca Diaz Ma lo avete visto? Ma lo avete visto? Che sceglie che hanno fatto? Oh ma rispetto Per quella gente Che è andata allo stadio E io Come che vado Dopo io Nonostante Giovedì Sarò lì E vi faccio il culo Così Le apro le palle Le apro tutte le palle Se voi Non portate a casa Appunto Il risultato giusto Con la Juventus No Con la Juventus Dovete fare La stessa prestazione Per 90 minuti Avete capito o no? Giocano 45 minuti Poi basta Poi Che cazzo Ce ne frega a giocare Basta Non giochiamo più Lasciamo ogni tanto Perdere Che non vale un cazzo La partita Tanto l'abbiamo già vinta Col cazzo L'hai vinta Col cazzo Perché Cosa pensavi? Che poi Pioli Che cazzo Pensavi che Conte Non andava a fare Qualche modifica Ai suoi Deve che non ho fatto Nessuna modifica Sentiamo Perché non hai fatto Nessuna modifica Io voglio Prendermila Anche con l'allenatore So che sembra assurdo So che sembra assurdo So che magari Alcuni dicono Che no Che esagero Lo so Però non posso Non prendermela Con l'allenatore Perché Secondo Mio parere Nel secondo tempo Almeno dovevamo Cambiare qualcosa Adesso Adesso Stavo pensando Adesso L'idea Al centro campo E Cos'è successo? Bingo Ho azzeccato Tutta la mossa Tattica Pam E il culo Ce l'ha messa un'altra E pam Arriva anche Lukaku Ce la mette un'altra Mamma mia Mamma mia Così Così Veramente E' uno scandalo Tutale Così E' uno scandalo Tutale Perché voi Non vi rendete conto Voi non vi rendete conto Perché tanto Non c'è un cazzo Questa è la vita Perché se io vedo domani Un calciatore Per strada Faccio fatica A credere Che sia Gentile Perché tutti Siete così Tipatici Perché voi Siete principini Che guadagnate soldi E non vi ne fai un cazzo Noi si L'abbiamo perso Mamma mia Guarda Veramente Io vi dico Voi vi dovete dare Una svegliata Voi dovete tutti Dare una svegliata Questo qua Libra Pensate che rinuova Quest'anno Pensate che A maggio Che rinuovi Io non ci credo Io ho il cazzo Che rinuova Quello lì Ve lo dico Io ho il cazzo Che rinuova Altro che rinnovare Non rinnova un cazzo Quello non rinnova Perché minchia Saranno dentro Questo show Il più totale Che c'è Mamma mia Basta Veramente Mamma mia Capucano Eravamo sopra Di Due cazzo Di gol Due cazzo Di gol Eravamo sopra Due gol E ci siamo fatti Rimontare Quattro per Mamma mia Mamma mia Che polli Mamma mia Andate Andatevene A allenarvi Oggi Non vi voglio Vedere a casa Anche domani Andate a allenarvi Avete capito Che pensate Adesso avete Ciccate riposino E poi Non puoi pensare Che voi vi allenate Dalle nove Alle cinque Di pomeriggio Ma cos'è sta roba Mamma mia Guarda veramente Finisco qua Che se no mi cazzo Fatemi sapere la vostra Se volete iscrivervi Iscrivetevi al canale Se no Non chiedo più nulla Nessuno Veramente Sono già oggi Veramente Non volevo fare Sto video qua Non so se faccio video domani Però mercoledì Sicuramente faccio Il qualche video Che nervoso Guarda Basta